Devo assolutamente farmi i complimenti perché stasera potevo scegliere quale delle due partite guardare i Rez, il Liverpool contro il Benfica, oppure dall'altra parte la partita sulla carta ancora aperta e quindi con più possibilità anche magari di qualche sorpresa, Atletico Madrid-Manchester City Quale ho guardato secondo voi? Ma guarda, avete 5 secondi di tempo per rispondere 4, 3, 2, 1, ovviamente ho guardato la partita che è finita 0-0 però va bene, allora andiamo avanti da questa cosa qui abbiamo le prime 4 semifinaliste, le prime 4 classificate in Champions di quest'anno dovrebbe essere l'accoppiamento Real Madrid-Manchester City-Villa Real contro Liverpool se ho capito bene dovrebbero essere questi gli incastri per le semifinali di Champions 2021-2022 niente derby di Madrid con il Real e il Ciolo che questa sera esce, viene eliminato dalla Champions stranissimo, il finale di questa partita è stata veramente bizzarra lo dico subito perché ho grande rispetto nei vostri confronti se il video di ieri sera era pieno, zeppo di riflessioni quello di stasera sarà molto più povero naturale ragazzi, la partita che abbiamo visto ieri sera la Madrid-Celsi, quella che abbiamo visto stasera Atletico-Madrid contro Manchester City per forza di cose non ci sono tante riflessioni poi se aggiungiamo che ieri sera è passato anche a Villareal che era la squadra che ci aveva eliminato capite bene che qualcosa in più si poteva dire quindi se il video di ieri era ho tante cose da dire questo è un numero giusto di cose da dire poi mi farete sapere se il contenuto l'avete trovato comunque interessante oppure no ecco questo è il classico momento in cui mi maledico perché io ve l'ho sempre detto quando guardo la Juve ovvio la prestazione la valutiamo per cercare di capire i punti di forza i punti deboli, quelli da migliorare ma io mi focalizzo sul risultato è quello che mi importa quando gioca la mia squadra del cuore perché preferisco sempre vincere, festeggiare, esultare quando invece guardo qualsiasi altra partita di calcio mi piacerebbe godermi la partita e vedere qualcosa di spettacolare ieri sera abbiamo mantenuto le attese questa sera decisamente no ma devo dire la verità il Manchester City di Guardiola questa sera sembrava la squadra della parrocchia del campetto del prete signori, sembrava veramente una squadra che non aveva qualità tecniche l'Atletico Madrid io l'andata non l'ho vista quindi magari è stata anche così ma l'Atletico Madrid ha completamente disintegrato quello che è l'identità quella che è stata l'identità del Manchester City di Guardiola che questa sera ancora una volta si è schierato con una sorta di modulo pirliano anche se in realtà il calcio di oggi è abbastanza così con un terzino bloccato uno più di spinta con Mares che si è allargato dall'altra parte poi Guardiola è sempre un po' particolare perché capire chi fa l'attaccante nel Manchester City vi sfido perché sono sempre lì che si invertono Gundogan, De Bruyne e poi a un certo punto in realtà ce ne sono altre due che sono le mezze ali tipo Bernardo Silva ci sono sempre lì che girano è inutile lo stesso Foden anche che comunque andava in giro quindi Guardiola ama questo tipo di calcio non avendo un vero e proprio centroavanti ma a riempire gli spazi con quelli che sono i due giocatori che danno a fare le mezze ali in quel momento i due giocatori che fanno attaccanti c'è solo un giocatore che rimane sempre lì che è Pedri davanti alla difesa fanno il loro rombo difensivo per impostare a tre da dietro più il centrocampista il resto è un po' di fantasia con Cancelo da una parte e Mares dall'altra che danno un'ampiezza questa è stata un po' la tattica nella partita di Guardiola poi viene cambiato un po' tutto a un certo punto perché c'è un po' di infortuni tipo quello di Walker e poi ci sono ovviamente dei cambi tattici da fare per cercare di portare a casa la partita di chiuderla per non rischiare all'ultimo secondo un tiro un rigore un rimpallo che possa rimettere in partita anche l'Atletico Madrid stasera avevo parlato di partita anzi ho parlato nei confronti della partita di stasera di una gara che poteva essere decisa da un episodio ecco c'è stato in realtà che è stato il primo tempo dove un paolo mi pare di Gundogan ha lasciato il risultato sullo 0-0 probabilmente sarebbe stato molto più spettacolare la partita con quel gol perché l'Atletico si sarebbe trovato poi ancora più sotto e avrebbe iniziato a giocare con maggiore intensità alla ricerca prima di accorciare il risultato e poi appunto del gol che poteva allungare la gara e portarla ai supplementari vi devo dire la verità sono contento che sia uscito l'Atletico Madrid perché personalmente li trovo insopportabili non è tanto il discorso della bellezza del gioco quello sapete che è ma li trovo insopportabili proprio per come approcciano la gara è qualcosa di anche solo il cartellino rosso che è stato mostrato al difensore di Simeone verso la fine sono quelle piccole cose che si nel calcio ci stanno per far innervosire ma giocare un'intera partita sempre spintonando sempre cercando il tocchettino sempre allungando le mani sempre dando la spallata capisco una volta capisco due volte capisco tre volte tutta la partita così è veramente una rottura di coglioni e più che altro la cosa che mi fa veramente ridere è pensare che alla fine della partita l'Atletico Madrid si ritrova a dover fischiare gli arbitri quindi tutto lo stadio i giocatori tutti impazziti dover fischiare gli arbitri perché gli altri perdono tempo che è probabilmente l'ABC dell'Atletico Madrid è quello che fanno praticamente sempre è quello che chi li contraddistingue mi è piaciuta questa cosa sono stato contento dall'altra parte invece Guardiola può festeggiare un'altra semifinale di Champions l'anno scorso perde appunto in finale vediamo che cosa succede quest'anno qua perché sicuramente intanto si becca un avversario ostico subito il Real Madrid di Carletto Ancelotti un bel Ancelotti contro Guardiola anche uno scontro di filosofie se vogliamo perché Ancelotti non ne ha mai fatto mistero dice ragazzi i giocatori decisivi sono Vinicius e così Benzema io ho Modric e Cross cerco di farli palleggiare per poi sfruttare la forza degli esterni e finalizzare con Karim Benzema quindi una squadra strutturata una squadra che ha una certa che rimane quella bene o male a fase di un possesso non possesso al massimo si abbassa Valverde va tra le linee si allarga un po' però non stiamo parlando di un calcio fluido come quello di Guardiola un calcio un po' più vecchio stampo quello di Carletto Ancelotti vediamo che cosa ne viene fuori in questa semifinale di Champions e il ciolo va a casa e il ciolo va a casa ecco che io qua voglio farvi una domanda secondo voi questa è una domanda seria che vi faccio al di là del finale della partita le rise e 28 minuti di recupero che non si capiva più niente non avevo più idea di quando potesse fischiare la fine o no e tra l'altro per un pelo non vanno vicini anche a fare gol negli ultimissimi minuti con quelle palle scodellate dentro Suarez che fa una magia e poi un paio di errori anche con un paio di rimpalli da Manchester City che riproponga la palla su Correa che ha la possibilità di fare gol a Ederson veramente a poco alla fine ma secondo voi in Spagna i tifosi dell'atletico nella tifoseria atletico c'è questa divisione come abbiamo in Italia tra persone che sostengono che il gioco sia importante arrivare al risultato tramite il gioco sia importante e quelli che invece dicono guarda a me è di vedere il ciolismo non mi interessa niente l'importante è che mi arrivino i risultati per dire la liga dell'anno scorso poi è un pelo diverso perché in Spagna vabbè l'atletico non è la squadra di punta lo sappiamo bene e ci sono altre due squadre molto importanti come Barcellona e Real Madrid e aggiungo rincaro la dose aumento la stampa perché tante volte il nostro problema in Italia è che i giornalisti o comunque nelle interviste si fanno queste domande sulle prestazioni sul gioco sui risultati sempre questo discorsino che rientra ma voglio intanto anzi magari c'è qualcuno che abita in Spagna e quindi mi può dare una risposta ancora più profonda è ancora più dettagliata ma voglio capire se secondo voi l'atletico e il ciolismo quindi il gioco di Simeone può essere considerato per qualche tifoso una sorta di problema perché stasera vedevo lo stadio che era un tutt'uno con Simeone intanto è stata una cosa bellissima io ci sono stato al vanno metropolitano è un inferno giocare dentro quando gioca l'Atletico Madrid sono andato a vedere Juve Atletico quando avevamo Sarri in panchina vincevano 2-0 poi facciamo 2-2 proprio nei minuti finali perché ecco una cosa che c'è da sottolineare l'Atletico non avendo segnato è vero non ha segnato mai neanche un gol nei 180 minuti ma è sempre rimasto dentro la partita per agganciarci i discorsi ieri sere e di oggi questo è un grande merito non essere mai uscito definitivamente dalla partita poi c'è un grande merito di aver fatto 0 gol ma dall'altra parte il City ne ha fatto solo uno e l'Atletico davvero io ero convintissimo alla fine che corre a buttarsi dentro quel pallone ma proprio anche sulla punizione inferiore a Carrasco ho detto ecco adesso la tocca a qualcuno la buttano dentro la incastrano e invece no alla fine 0-1 è il risultato dell'andata stasera ci siamo guardati una partita da quasi 100 no no di più di 100 minuti in cui non ci sono stati gol unica emozione il palo devo dire una cosa ecco una cosa ve la dico per concludere sono stati più divertenti gli ultimi 10 minuti di partita perché l'Atletico era scoppiato aveva un uomo in meno sentiva la pressione mancava poco tempo piuttosto che tutti i 90 precedenti e questo è il bello della Champions è il bello dell'eliminazione diretta di quando il tempo passa 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 io stasera volevo i rigori sono sincero avrei voluto vedere i rigori ma una partita come quella nel finale gli ultimi 10 minuti me la sarei gustata per un'altra mezz'oretta di sfrumentare l'avrei vista molto molto volentieri anche perché veramente lì erano saltati tutti gli schemi e il calcio è bello quando c'è la follia quando capisci che non c'è più niente da perdere è solo da guadagnarci peccato che quell'arco di partite possa avvenire soltanto per pochi minuti in determinate partite appunto quelle dell'eliminazione diretta o in campionato quando hai l'ultima possibilità per fare punti per vincere lo scudetto per qualificarti da Champions per non retrocedere e quelle robe lì fatemi sapere se vi siete divertiti stasera la risposta è sì probabilmente se avete visto Liverpool Benfica per la risposta è sì per la risposta è sì